collegati con gli Stati Uniti, esattamente con St. Louis, con il professor Boldrin. Buongiorno professor Boldrin. Fare per fermare il declino un economista insegna da quelle parti, come si suol dire. Professore, cosa si sente dire su questo primo, diciamo, abbiamo fatto questo primo scenario di conti? Il taglia-taglia, è tutto un taglia-taglia. Sono appena arrivato dall'Italia, quindi non ho sentito cosa dicono qua. Ho sentito cosa dite voi, ho sentito i conti. Se quelli sono i tagli, ci stiamo prendendo in giro come è il solito. Lo Stato italiano è una cosa che spende 800 e passa miliardi all'anno. Tutto su taglia-taglia ammonta a meno di un ottocentesimo. E prova ancora una volta che evidentemente i problemi del paese non li vogliono affrontare. Ma comunque ho sentito il dialogo lì in studio. Io mi ricordo la prima volta che mi sono collegato a un programma televisivo italiano qualche anno fa. Credo forse ballarò di fronte al colloquio che sentivo in studio. Il giornalista, il conduttore mi chiese cosa ne pensavo e dissi che ero esterefatto. Continuo a rimanerlo, anche se ho passato l'ultimo anno e mezzo un po' più coinvolto nelle cose italiane. Sembra che vada tutto bene. Comunico ufficialmente che il PIL è giù di quasi del 2%. Siamo l'unico paese del G7 con una crescita negativa e negativa alla grande. Questo è il terzo anno consecutivo. Non lo so. Non lo so se la classe politica italiana ha la più vaga idea di cosa succeda nel paese reale, di cosa siano le cose da fare per risolvere i problemi. Comunque. Allora, intanto questo è un primo assaggio del pensiero di Boldrin. Allora, intanto questo è un primo assaggio del pensiero.